Buongiorno ragazzi, siamo alla seconda parte di Sallustio. Mi riparto, come al solito, da considerazioni generali e da un brevissimo riassunto del precedente, tanto ve lo potete anche riguardare. Allora, in generale, Sallustio è uno storico diverso dalla tradizione storiografica, dell'epoca degli Scipioni, perché scrive delle monografie, cioè non racconta, seguendo la tradizione degli annali dei pontefici, i fatti, anno per anno, le cose più importanti che succedono in ogni parte dell'impero romano, anno per anno, con una narrazione quindi di questo tipo, analistica, ma sceglie un argomento, cioè la vicenda politica di Catilì nel tentativo del colpo di stato, la congiore Catilina, o in quest'altro caso di oggi, la guerra di Giugurta, e lo sviluppa in maniera omogenea senza occuparsi di questioni non pertinenti, cioè fatti che succedono nello stesso periodo, ma magari da un'altra parte dell'impero, che magari coinvolgono altre persone. Insomma, la monografia è mirata, ed è mirata su un argomento per qualche motivo. Quindi non si tratta di raccontare cosa succede, i fatti, così per mandarne memoria, ma si fa una scelta precisa, perché l'argomento è rilevante, l'abbiamo detto, sia nel caso della congiore di Catilina che nel caso della guerra di Giugurta, noi andiamo a vedere alcuni momenti cruciali della politica di Roma, e cioè l'ascesa del Partito dei Popolari, l'ascesa anche di Cesare poi, attraverso i momenti, la congiore Catilina, adesso vedremo la guerra di Giugurta, di crisi, crisi della vecchia classe politica. Allora, ultima cosa generale, lo stile di San Luzio, abbiamo detto, è uno stile che da una parte racconta i fatti, ok, con un'analisi politica molto precisa. San Luzio ha detto che la storiografia serve a educare i politici, è come una continuazione anche dell'attività politica. In questo segue il modello del grande storico greco Tucidide, che dice che l'arte dello storico è come quella del medico e come quella del politico, cioè posto che lo Stato sia un corpo, il medico cosa fa? impara a conoscere quel corpo, legge i sintomi, i segni nel corpo e fa una diagnosi di una malattia. Sa come si evolverà quel sintomo, sa quanto durerà, sa a quale conseguenze porterà e magari saprà anche fare le scelte giuste per la terapia. Allo stesso modo, lo storico, facendo vedere alcuni processi politici, addestra il politico che poi, vedendo certe situazioni, certi fenomeni, li leggerà come sintomi, saprà prevedere cosa accadrà, saprà fare le scelte giuste, eccetera eccetera. Tucidide dunque come modello. Bene, dicevamo, un'altra però caratteristica di questa storia di Sallustio è anche l'intromissione di altri generi, per esempio l'oratoria o anche il romanzo. E se vogliamo la morale, la filosofia morale o comunque in questo rappresentare romanzescamente i personaggi anche con dettagli privati che, come dire, illuminano il personaggio ma non sono magari così rilevanti da un punto di vista storico, questo culto del carattere, insomma, del protagonista. Ecco, vediamo appunto anche l'intervento della morale. La storiografia di Sallustio si dice essere una storiografia quindi politica da una parte e morale, usando i generi della storiografia ma anche del romanzo e dell'oratoria soprattutto. Torniamo a noi. Di cosa parla la guerra di Giugurta? Bene, diciamo che dal punto di vista temporale torniamo indietro, perché Sallustio adesso ci parla di alcuni fatti avvenuti prima della sua nascita, dal 111 al 105, e cioè la guerra di Giugurta. Perché sceglie questo episodio di cui non è stato testimone diretto? Lo sceglie perché lì, durante la guerra di Giugurta, nasce Caglio Mario come personaggio politico, cioè Caglio Mario diventa console e fonda, diciamo così, il Partito dei Popolari. Tra Caglio Mario e Cesare c'era anche un rapporto lontano di parentela. E insomma, è come dire, ti racconto quando Cesare è diventato capo dei Popolari, quando è finita, diciamo così, lo strapotere del Senato, e cioè la congiura di Catilina, subito dopo ti racconto le origini del Partito dei Popolari. Dunque, che succede nella monografia la guerra di Giugurta? Attenzione, innanzitutto, chi è Giugurta? Giugurta è il nipote di Mishipsa, e Mishipsa è il re della Mauritania. Mishipsa è il figlio del re amico di Scipione l'Africano, oddio non mi viene il nome, adesso ve lo dico, Massinissa. Dopo la sconfitta di Annibale, Scipione l'Africano, come sapete, aveva insomma sparso il sale su Cartagine, è stata distrutta la città, eccetera, e aveva fondato, appoggiato e fatto crescere un piccolo regno confinante col territorio di Cartagine, cioè la Numidia, e il re appunto Massinissa di Numidia diventò amicissimo dei Romani, perché i Romani gli diedero molto potere, molta ricchezza, a patto che facesse il cane da guardia dei Romani, cioè controllasse Cartagine. Bene, il figlio di Massinissa e Mishipsa, quindi sono passati alcune generazioni, insomma due generazioni, dalla terza guerra punica, insomma siamo, come dire, ci ricolleghiamo a quell'escursus che abbiamo visto nel Deconiurazione Catiline, quello in cui, insomma, Sallusio diceva che la corruzione di Roma era cominciata dopo le guerre puniche. Infatti, Mishipsa lascia alla sua morte a due figli ad Erbal e Iemsale e un nipote che è Giugurta. Giugurta cresce all'inizio come un ragazzo eccezionale, è un ragazzo con grande, anche lui, come Catilina, con grandi doti, è una grande forza nell'animo e nel corpo, pure lui. Ma anche lui, appena lo zio, il re, muore, viene preso dalla ambizio e dall'avarizia, questi due mali, l'ambizione e l'avidità di denaro, l'ambizione di prendere il potere e quindi fa ammazzare uno dei suoi cugini, l'erede, e fa guerra all'altro costringendolo a fuggere in esilio. Questo senza chiedere, dunque, fa un colpo di stato, prende il potere, diventa lui il re di Numidia, senza chiedere il permesso ai romani. Bene, e questa è la prima fase della nostra opera, siamo arrivati più o meno al capitolo 16. Poi c'è un piccolo escursus sulla, diciamo, geografia e sugli stati, insomma, geografia, etnografia, geografia politica del Nordafrica e poi la prima fase del conflitto. Siccome Roma non aveva previsto il colpo di stato, Giugurta ha ucciso il legittimo eroe, erede, esiliato e perseguitato l'altro, l'altro, i romani intervengono a favore di questo erede legittimo e dichiarano dunque guerra all'usurpatore, a Giugurta. Ma Giugurta riesce a corrompere molti senatori romani e gli stessi generali che vengono mandati con l'esercito a fargli guerra. Di fatto, le battaglie non concludono niente, Giugurta rimane tranquillo al trono, dando soldi impinguando le tasche dei corrottissimi senatori e generali romani, della nobilitas romana. Segu un escursus in cui ritorniamo alle cause della decadenza di questa classe politica. Torniamo sul discorso che la ricchezza ha rammollito Roma e viene inserito un altro concetto. Perché i romani sono rammolliti perché è finito in loro il metus hostilis, cioè il timore dei nemici. Come dire, sconfitta Cartagine, i romani non hanno più nemici da temere, non hanno più nemici naturali e quindi si rammolliscono. Ma nel tempo di questa dimostrazione di debolezza, l'incapacità di farsi rispettare da un reuccio di uno stadarello africano, potrebbe nuocere tantissimo a Roma in politica internazionale. Perché se Giugurta riesce a fare quello che gli pare senza chiedere permesso ai romani, è chiaro che il rischio è che anche le altre province si ribellino all'autorità di Roma. Quindi la situazione non è da sottovalutare. Bene, nella seconda fase del conflitto vediamo due grandi uomini. Uno appartenente alla nobilitas, un'altra mosca bianca, ecco, Meccatono Ticenze, rappresenta il mos maiorum che non è ancora corrotto, un grande uomo, uno tutto d'un pezzo, è Cecilio Metello. Cecilio Metello riesce a ottenere qualche vittorietta militare. Ma in realtà accanto a lui c'è un giovane ufficiale, Caio Mario. Caio Mario che poi diventerà appunto il primo homo novus a essere eletto console. Quando lui decide di andare a fare la campagna elettorale, chiede il permesso al suo generale, Metello cerca di impedirglielo perché è geloso, perché sa che Mario vale più di lui e sa che Mario, soprattutto, accuserà i senatori di essere dei corrotti e prometterà che se sarà eletto console risolverà la guerra in poche settimane. E infatti questo accade nonostante il divieto di Metello. Mario disobbedisce, va a Roma, promette al popolo che se sarà eletto risolverà la questione perché la questione non è un problema di incapacità militare, è un problema di non volontà e di corruzione. Quindi il primo processo di mani pulite in Italia. E infatti diventa console. Diventato console torna in Africa e sconfigge Giugurta in poche mosse. Con lui c'è un giovane luogotenente che a sua volta poi gli si ribellerà contro. È il giovane Silla che vediamo essere anche lui più legato alla nobiltà che al popolo e che fa però una cosa interessante. Praticamente riesce a levare a Giugurta il suo maggiore alleato, Bocco, re di un altro statarello africano della Mauritania. Lui riesce a fare un'operazione diplomatica molto abile, Bocco abbandona Giugurta, Giugurta perde e Bocco stesso lo consegna ai romani. Giugurta verrà riportato in catene a Roma. Mario celebra un grande trionfo e istituisce il solidum, cioè il soldo, cioè lo stipendio per i soldati. Voi ricorderete che i soldati romani facevano un servizio militare praticamente lungo tutta la vita e avevano la speranza soltanto alla fine della carriera di ottenere, se erano ancora vivi, se erano ancora in grado di lavorare, di ottenere un pezzo di terra. Questo a fronte di anni e anni in cui la famiglia veniva abbandonata, magari si copriva di debiti, magari non aveva il supporto appunto del proprio capofamiglia. Quindi situazione gravissima. Mario fa l'unica cosa che veramente può migliorare la vita della plebe, fa che il servizio militare diventi un mestiere, cioè possa essere scelto volontariamente e sia retribuito. Da qui nasce, da questo gruppo di soldati finalmente in grado di mantenere la loro famiglia, nasce il Partito dei Popolari, ce lo ricorderemo. Bene, cosa altro dire del nostro Sallustio? Ormai finisce la lezione. Sallustio scrive con un linguaggio molto arcaico e questo è coerente con la sua lode del tempo andato, della sua nostalgia per il passato, per il mos maiorum. È un laudator temporis acti. Le due paroline d'ordine per il suo stile sono brevitas, cioè la brevità, la sintesi. Ancora più di Cesare è, segue Cesare, ma è più sintetico ancora, tant'è che si intuisce molto bene, ma spesso per tradurlo dobbiamo tradurlo liberamente, cosa che probabilmente a voi facilita pure il compito. E variazio. La variazio invece è il fatto che Sallustio non ama come Cesare la simmetria, ma per rendere la sua scrittura meno monotona, meno prevedibile, varie costrutti. Facciamo un esempio. Una causale, se c'è per esempio una serie di causali, la prima sarà fatta con l'ablativo assoluto, la seconda con il quad più l'indicativo, magari la terza volta con cum e congiuntivo. Cioè tutti costrutti, come dire, dello stesso tipo, equivalenti, ma che variano un po' la sintassi. È talmente breve il periodo che non vi darà nessuna difficoltà. Se mai la difficoltà è cercare di scegliere bene le parole sul vocabolario, perché lui punta molto, essendo molto breve, sulla incisività dei termini che spesso anche sono messi in contrapposizione. Come nei ritratti, così nella sua narrazione, Sallustio ama le antitesi, ama i contrasti, ama i forti, le forti contrapposizioni. E quindi questo è il suo stile. Bene, cos'altro diciamo? L'ultima opera, nemmeno la citiamo e basta, nemmeno la studiamo, era Le istorie. Le istorie voleva fare un collegamento probabilmente tra il bellum iugurtinum, cioè la guerra di Giugurta, l'ascesa di Mario e poi che diventerà, ricorderete, dittatore, poi gli si contrapporrà Silla che diventando console aspira la dittatura, gli vuole togliere il potere degli eserciti, due combatteranno la prima guerra civile di Roma. Tutto questo non viene raccontato da Sallustio. Lui riprende le storie più o meno dal 78, quindi Silla si è ritirato a vita privata nell'80 e si scontrano appunto il partito dei popolari e il partito degli ottimati che Silla fondamentalmente ha creato dando l'accesso agli equites, dando l'accesso al Senato alla classe degli equites e dando agli equites l'appalto della riscossione delle tasse nelle province. Due cose che compattano gli interessi di queste due grandi classi politiche ed economiche, i senatori, il ceto dirigente, grandi proprietari terrieri latifondisti e gli equites che sono invece borghesi, mercanti che hanno quindi liquidità, hanno una ricchezza di tipo mercantile. Ecco queste due classi vengono da Silla compattate nel partito degli ottimati. Lui doveva raccontare dal 78 più o meno al 63, cioè quando arriva la congiura di Catilina e questi due partiti si trovano in conflitto, ma le storie si interrompono nel 67. Ne abbiamo solo dei frammenti, quindi possiamo dire poco. Non sappiamo nemmeno se Sallustio nel 67 voleva chiudere oppure muore e non fa in tempo a raccontare fino all'anno del 63, ricollegando dunque le storie alla congiura di Catilina. Cosa diciamo delle storie? Che sono invece una narrazione per anno, analistica, non è una monografia. Cosa ci è rimasto? Ci sono rimasti qualche frammento e quattro discorsi, guarda caso anche qui i discorsi sono molti importanti, certi personaggi sono protagonisti, sono anche un po' romanzati, sono esempi morali, positivi o negativi, o un po' e un po' luce e ombre e due lettere. Di questi forse la più interessante è la lettera di Mitridate, Mitridate re del Ponto, sapete che nel 68 gli dichiara guerra. Prima gli aveva dichiarato guerra Silla e Mario e Silla si scontrano per avere la dirigenza di questa guerra e poi più avanti nel 68 e poi anche nel 64 sarà Pompeo a far guerra contro Mitridate. Comunque di questo periodo praticamente Mitridate nel 69 temendo che Roma completi quello che aveva già iniziato Silla e Pompeo lo farà, in questa lettera chiede a un altro re orientale, lui è del Ponto, Mitridate, chiede ad Arsace, re dei parti, quindi l'Iran, un'alleanza contro i Romani, spiegando che i Romani non si fermeranno mai ma continueranno ad avanzare conquistando territori su territori spinti dalla loro avidità. Quindi abbiamo come, vi ricordate il discorso di Critognato nell'assedio di Alessia? Cioè abbiamo anche qui un esempio molto simile, ricordatevi che Salustro è amico e ammiratore di Cesare, abbiamo l'esempio di un'ottica diciamo capovolta, è il nemico, è il barbaro che parla male dell'imperialismo romano dicendo che questo imperialismo non porta la pace, la civiltà e tanti benefici, questo imperialismo è soltanto rapina, i Romani sono avidi e non la smetteranno mai di attaccare, quindi se oggi attaccano Mitridate, dice Mitridate, domani attaccheranno Arsace e così via, quindi il punto di vista del nemico. Bene, con questo abbiamo veramente detto tutto, buon lavoro, studiatevi bene il nostro Salustio.